quali sono le competenze del futuro e le aziende che professionisti cercano da ultime analisi statistiche emerge un fattore cioè le figure professionali più ricercate sono quelle che restano al passo con le evoluzioni tecnologiche digitali intelligenza artificiale scrittura di programmi coding e cyber security la tua azienda si avvale di questi professionisti schillati con le ultime competenze che il mercato richiede certo talvolta traspare un certo mismatching tra domanda e offerta di lavoro ed è per questo motivo che è stato concepito next il progetto next selezionato dal fondo repubblica digitale impresa sociale continua a formare giovani talenti digitali dai 15 ai 34 anni e lo fa per plasmare i professionisti del presente e del futuro con la garanzia che abbiano tutte le skills giuste per stare al passo con i tempi moderni basta che tu sia un'azienda o pugliese o lombarda o campana e il talento digitale schillato e pronto per entrare nel mercato del lavoro te lo forma next